Attaccare quell'obiettivo! Attenzione, l'obiettivo è stato preso, ottimo lavoro, passo! Attaccare quell'obiettivo! Attaccare quell'obiettivo! Attaccare quell'obiettivo! Attenzione, abbiamo preso l'obiettivo, passo! Attaccare quell'obiettivo! 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 Piazza al C4! C4 a terra! C4 pensato! Piazza un po' di C4! C4 a posto Ecco le munizioni Sto per far saltare il C4 Ecco le tue munizioni Piazzo il C4 C4 è a terra Piazzo il C4 Piazzo il C4 C4 piazzato Piazzo il C4 Piazzo il C4 Piazzo del C4 C4 piazzato C4 piazzato Piazzato il C4 Innesco il C4 Piazzo il C4 Piazzo il C4 C4 piazzato Piazzato il C4 Piazzato il C4 Piazzato il C4 Ecco le tue Piazzato il C4 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 Piazzato il C4